Nella sua azienda come ha influito l'uso dei social media, di internet in genere? Ma è stato molto rilevante perché proprio grazie ai social media, alla capacità forse di interagire con gli utenti e non solo far sapere che c'eravamo con un profilo attivo, ma proprio con l'interazione con i vari utenti per i vari social, utilizzandoli ognuno nel modo opportuno perché non vanno utilizzati tutti allo stesso modo, siamo stati capaci appunto di fidelizzare e di incrementare la crescita dei nostri follower, fan, fino a farli poi diventare nostri clienti, fare il passaggio quindi dall'utente al cliente. Laureatiartigiani.it è un blog che nasce circa un anno fa per raccontare le storie di giovani che dopo la laurea decidono di intraprendere un percorso artigiano, di inventarsi artigiani. Storie motivate da passione, da attitudine prima di tutto, ma anche dalla necessità di inventarsi un mestiere in un contesto di crisi che rende complicato appunto trovare un lavoro. Sono storie che vengono da tutta Italia, storie di passione e di coraggio perché chiaramente avviare una impresa oggi con tutte le difficoltà del caso, economiche, burocratiche, lungaggini varie, è qualcosa che richiede veramente tanto coraggio.